Io sono contraria al CPR a Falconara. No al CPR a Falconara. Dopo la presa di posizione di sindacati e delle forze di opposizione arriva anche quella della sindaca Stefania Signorini che risponde così alle dichiarazioni dell'assessore alle politiche integrate per la sicurezza, Filippo Saltamartini, che nel corso di un'interrogazione durante l'ultimo consiglio regionale aveva affermato che il centro di permanenza per i rimpatri sarebbe sorta a Falconara Marittima in via delle caserme a pochi passi dall'aeroporto. La regione non può in alcun modo porsi alla decisione del Ministero degli Interni, aveva detto Saltamartini, ma alle sue parole a stretto giro sono seguite quelle della prima cittadina falconarese che ha motivato la sua posizione con una serie di motivi. Innanzitutto perché la nostra comunità ha già pagato molto in termini di servizio in quanto siamo sede di riaffineria, siamo sede di aeroporto, quindi obiettivi sensibili ed impatto ambientale, ma direi che l'elemento che deve essere maggiormente evidenziato è quello appunto della criticità idrogeologica. Già la Signorini punta fortemente sul fattore ambientale alla luce delle recenti esondazioni che hanno creato parecchi disagi alla città e alle frazioni limitrofe. Quindi questa è un'area a fortissimo rischio esondazione, quest'area che è stata individuata per me è assolutamente inidonea. Quel che è certo è che il braccio di ferro tra comune di Falconara e regione in tema CPR è appena cominciato.